Quel cane in negozio non potrà più stare e poco importa se per due volte ha sventato una rapina, rappresenta un pericolo per la salute pubblica. Lo ha deciso l'ASL seguendo le direttive dei NAS. Il cane in questione è il Rottweiler Femmina di Nathalie Boscardine e la fornaia di Via della Valle in città presa di mira dai malviventi. Vittima di 13 colpi negli ultimi tempi, troppi per non pensare che dietro l'ennesima rapina subita non ci sia qualcosa di anomalo. Non ho niente da nascondere, i miei problemi non ne ho. Ad ogni aggressione subita lei ha sporto denuncia. Tutte denunce contro i gnoti immagino? Al momento sì. Ora però le indagini dei carabinieri sono concentrate sui rapporti di lavoro della donna. Verosimilmente c'è qualcuno che ha deciso di non far vivere bene la signora. È per questo che stiamo orientando i nostri accertamenti nell'ambito delle relazioni, dei rapporti che ha la vittima. Senza il cane guardia del corpo, ora la fornaia di Via della Valle sarà più sola. È evidente che ci muoveremo oltre che con un'attività di indagine anche con dei mirati dispositivi che tendano a tutelare la vittima.